ciao a tutti io sono andrea carcano mi sono laureato all'insubria in informatica ho fatto un dottorato di ricerca all'insubria in informatica in particolare focalizzato su cyber security dove sono oggi oggi sono a san francisco sono uno dei founder di nozomi networks un'azienda che si occupa di cyber security con oggi circa 200 persone che ci lavorano quello che voglio dire che per me il percorso all'insubria è stato fondamentale per quello che faccio oggi mi trovo in silicon valley dove ci sono i più bravi nel mio campo e devo dire che le competenze che ho acquisito all'insubria ancora oggi mi permettono di essere molto competitivo rispetto a persone che vengono da università molto più blasonate come stanford berkeley eccetera